Netta affermazione del Sulmonafuzzal che batte la Sportmania per 10-1 e guadagna la seconda posizione in classifica. La gara era però cominciata con il vantaggio della squadra di Castelnuovo-Alvomano. Al decimo decisivo un calcio di punizione del capocannoniere del girone Vincenzo Damario, ma questa sarà l'unica marcatura per gli ospiti. Due minuti dopo i padroni di casa pareggiano con Ginnetti che dopo essersi liberato di due avversari batte Alcantarini. I Sulmonisi cercano con insistenza il vantaggio, ma non riescono a concretizzare una conclusione di Petrella e poi un tiro a distanza ravvicinata dalla porta di Liberatore. E il preludio al gol che arriva nella successiva azione d'attacco, apertura di Ginnetti per Krasnici che colpisce il palo, sulla ribattuta è decisivo l'intervento di Ginnetti per la doppietta personale che vale il 2-1. A tre minuti dalla fine del primo tempo, sfortunata deviazione di Di Giovanna Antonio della Sport Mania che dopo un tocco di Liberatore, nel tentativo di servire nota ad Andrea, trae in inganno il proprio portiere con la palla che si deposita in rete per il 3-1 del Sulmona che chiude il primo tempo. Nella ripresi i padroni di casa incrementano notevolmente il punteggio, ma prima sfiorano la quarta marcatura con Veneziale che manda a fil di palo e in un'altra occasione vedere spingersi il suo tiro da Alcantarini. Giuseppe Veneziale è determinante nell'azione successiva, all'ottavo si invola sulla sinistra e la sua conclusione viene corretta in rete da Liberatore per il 4-1. Al decimo c'è il 5-1, Veneziale va a dar fastidio a Di Giacomo con la palla che finisce a Notarandrea, autore di un sinistro vincente. Un minuto dopo assist di Notarandrea per Veneziale che porta a sé le marcature, al diciassettissimo si vedono gli ospiti con Damario servito da Nava, ma Silvestri si oppone ottimamente. Al diciottesimo Osuna non riesce a superare l'estremo difensore Alicantarini, al minuto 20 riprende la sagra del gol dei Sulmonesi, ci prova Krasnici e dopo la ribattuta di Di Giovanni Antonio, Veneziale fisse il punteggio sul 7-1. Al venticiquissimo c'è spazio anche per Michael Maiorano che bagna il suo esordio con il gol. D'Angelo prova a fermare Osuna, ma si inserisce molto bene Maiorano con un destro che non dà scampo ad Alicantarini. Al ventiseiesimo recupera un pallone a centrocampo Veneziale che avanza e realizza la tripletta del 9-1. L'ultima trasformazione si registra al ventisettesimo col liberatore che dopo aver conquistato una palla che il portiere aveva provato ad allontanare, realizza la doppietta personale che mette il sigillo definitivo del 10-1 del Sulmona Futsal. La Sportmania esce fuori dalla zona play-off mentre i Sulmonesi scavalcano in classifica la Nobel Boys e diventano vice capolista del girone, rimanendo però sempre a meno 4 dalla vetta in virtù della vittoria della Felice per 10-2 contro la Dinamo Faras. Concretezza e determinazione sono state le caratteristiche espresse oggi dalla squadra di Fonte ed in campo al palasport dell'incoronata e tornato a vedersi il vero Sulmona Futsal.